Con il piglio grintoso che da sempre lo contraddistingue, entusiasta e pieno di amore per Venezia, il comandante capitano Ferruccio Falconi ha festeggiato nel suo Museo del Bari, in via Biagio Zulian, l'Ito di Venezia, i 95 anni. È bello perché sono contento del riconoscimento, soprattutto di dare l'esempio ai giovani, ai giovani di tornare qua, di tornare, di venire al mare, di venire qua al museo a imparare ed affezionarsi al mare, perché se Venezia vogliamo farla uscire dal degrado, dobbiamo riportare alla dignità e al decoro della marineria. A sorpresa sono arrivati gli auguri graditissimi di buon comprianno dal governatore del Veneto Luca Zaia, anche con telefonata, e dal direttore marittimo del Veneto, ammiraglio Piero Perlizari. Presente alla felta anche il nostro direttore Luigi Baciagli, che ha ricordato in tempi in cui, con il comandante Ferruccio, portavano la cultura nelle mezze operaie dei cantieri Navari Faldis, della Giudecca. Abbiamo fatto questa esperienza fantastica negli ex cantieri Toffolo, dove effettivamente andavamo e lui giustamente diceva che i giornalisti dovrebbero avere l'umiltà di fare anche queste cose, di andare in mezzo agli operai e al limite suonare e stare assieme. Il museo, devo dire, è una creatura di Ferruccio Falconi che tutti dovrebbero vedere, perlomeno tutti i lidensi dovrebbero vedere, dovrebbero conoscere questa realtà che racconta la storia nostra di Venezia, del Lido, della marittimità. Una persona estremamente lucida, estremamente capace, sempre disponibile, sempre pronta, che rappresenta un po' il capostipide, una famiglia importante per il Lido e per il Venezia. Teniamoci lo stretto, mille di questi giorni.